Sì, 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 abbiamo fortemente voluto che questa iniziativa fosse all'interno del nostro cartellone del Festival dello Sport perché prima di tutto questa iniziativa parte anche dalle scuole, cioè il progetto Scuola Special Olympics è un progetto che realizzano le scuole sull'inclusione, ma anche sul nostro territorio. Noi abbiamo dei progetti di inclusione, è quello realizzato ormai da qualche tempo, da qualche anno, anche dall'associazione sportiva Synergy Basket. Abbiamo cercato di mettere insieme queste esperienze virtuose perché come amministrazione siamo molto sensibili a tutte le attività di inclusione che vengono fatte sul territorio, le abbiamo messe insieme, abbiamo fatto un percorso insieme alle scuole anche di formazione dei ragazzi di che cosa vuol dire praticare lo sport in modo inclusivo. perché ovviamente per i ragazzi che sono in difficoltà è necessario che lo sport sia praticato insieme ai ragazzi e con i cosiddetti normodotati. E allora ecco che siamo riusciti a portare questa iniziativa, in cui sono coinvolta addirittura otto scuole, proprio a San Gio.